postazione difendete l'obiettivo il nemico alla postazione la postazione è nostra postazione confermata il nemico alla postazione la postazione è attiva la postazione è nostra siamo in vantaggio il nemico ha preso la postazione la postazione è nostra il nemico alla postazione non abbiamo ancora perso postazione localizzata la postazione è attiva la postazione è nostra la postazione è sotto attacco la postazione è sotto attacco controlliamo la postazione la postazione è sotto attacco il nemico alla postazione postazione localizzata la postazione è attiva la postazione è nostra il nemico ha preso la postazione controlliamo la postazione siamo avanti sì contatto alla postazione contatto alla postazione siamo in svantaggio Postazione localizzata! La postazione è attiva! La postazione è nostra! Raid aereo stile in zona! Postazione sotto attacco! Postazione sotto attacco! Teniamoci stretto in vantaggio! Il nemico ha la postazione! Sono in vantaggio loro! Contatto alla postazione! Postazione localizzata! La postazione è attiva! Controlliamo la postazione! Siamo avanti noi! Bene così! Contatto alla postazione! Postazione persa! La postazione è nostra! La postazione è attiva! Contatto alla postazione! Postazione localizzata! Postazione localizzata! Controlliamo la postazione! La postazione è attiva! La postazione è attiva! Controlliamo la postazione! Contatto alla postazione! Ti stanno mettendo sotto! Contatto alla postazione! La postazione è nostra! Il nemico ha preso la postazione! Controlliamo la postazione! Postazione localizzata! La postazione è attiva! Controlliamo la postazione! Siamo passati in volta! Illuminati! Non abbiamo ancora perso! Siamo in testa! Il nemico ha preso la postazione! Sono passati in testa! Reagite! Siamo in testa! Il nemico ha preso la postazione! Postazione sotto attacco! Postazione sotto attacco! Contatto alla postazione! Postazione confermata! Postazione attivata! Controlliamo la postazione! Bomba planante nemica! Postazione alla postazione! La postazione è nostra! Il nemico ha la postazione! Ma rifiuta! Ma rifiuta! Quattiva! Ma rifiuta! Sea di postazione… La postazione! Chiara av Cow! Si llega ciché! postazione confermata il nemico ha preso la postazione postazione confermata postazione attivata il nemico ha preso la postazione contatto alla postazione postazione sotto attacco uno spettacolo siamo avanti noi contatto alla postazione postazione confermata postazione attivata la postazione è nostra contatto alla postazione postazione sotto attacco attacco alla postazione Grazie a tutti.